Li avete visti tutti quei film in cui l'eroina ha una malattia terminale, ma nonostante l'achemio e i respiratori è una gnocca spaziale? Non è il mio film. Trovato. Come va con lo stalking? Non bene. Ha il profilo Instagram di un bimbo minchia. Fa canottaggio come il padre, ingegneria navale come il nonno. Se ti annoio così tanto, perché mi segui dappertutto? Che vuoi? Una cena! E poi se non scatta nulla, giuro che ti lascio in pace. Andata. Ma l'hai visto con chi si è presentato l'altra sera? E quindi sono la ragazza più brutta con cui tu sia mai uscito? No. Come ti vedi a 60 anni? Ti sei spinta un po' troppo oltre. Devi dirglielo. Mi sai che preinteso. Chiudiamola qui. La situazione è molto grave. Mi dispiace. Di tutto. Potrei andarmene proprio sul più bello. E adesso... E su stai.